buongiorno buongiorno ciao a tutti cari ascoltatori oggi voglio parlare in italiano perché non parla bene la lingua di dante ma cercherò di spiegare un po come ho fatto per imparare l'italiano perché e come ho fatto ultimamente queste settimane per rinfrescare rinnovelare un po mi livello di italiano bene al principio poiché parlo spagnolo non era molto difficile imparare l'italiano circa venti anni fa ho studiato un un corso della lingua phone ho ascoltato molte molte volte tutte le capitoli ho letto studiato le spiegazioni della grammatica ho studiato bene ho letto e ho sembra che ho potuto così dire cambiare mi spagnolo e non quasi italiano che mi ha permesso comunicare con la gente in italia perché per me l'italiano era soprattutto per poter comunicare in italia perché a mia moglie a me piace molto viaggiare in italia e certo che è molto più piacevole si può parlare nella lingua perché in italia non è tutti gli italiani che parlano inglese no ma dopo questo corso ho anche trovate dei libri quei libri con spiegazione o con liste di vocabolario in inglese e ho letto delle cose in italiano letteratura e altre cose più o meno interessante ma non non ho potuto come si dice concentrarmi nell'italiano ma ho fatto ho sempre fatto un poco prima di andare in italia ma alcuni anni fa ho scoperto il sito sul web del narratore è un sito di audiolibri molto ben fatto infatti ho ascoltato tante di questi audiolibri come come per esempio per esempio le avventure di penocchio narrato da maurizio il narratore molto molto ben fatto con il narratore che 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 imita queste voce di tutti tutti i personaggi del della storia no dunque ma dopo questo ho tutto ho tutto ho credo che credo che ho da me 20 audiolibri in italiano da il narratore i promessi sposi anche un audiolibro di alberto moravia e ho letto anche delle libri come questo gli inferenti e anche ho trovato perché mi piace molto la storia ho letto questo libro che non è ben conosciuto ma per me era molto interessante perché mi ha permesso di imparare delle cose sulla storia dell'italia dopo dopo la creazione proprio dell'italia moderna e fino alla prima guerra mondiale e tutto questo mi ha aiutato a sempre migliorarmi nell'italiano e ogni volta che siamo stati con mia moglie in italia credo che deve essere 5 6 volte ma ho cercato di parlare e anche ho studiato nel link con i tutori nostri ho letto delle cose che abbiamo nella nostra biblioteca ma devo dire che questi ultimi dieci anni mi sono concentrato nella lingua russa nella lingua cieca nel coreana nel portoghese nel romena e tutto questo crea una confusione dunque ogni tanto quindi invece di dire delle cose utilizzare delle parole italiane voglio parlare portoghesi russo non so ma questo non è un gran problema 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 per me perché credo che sempre ho la impressione che studiando altre lingue anche le lingue che non sto studiando se fanno migliore dunque adesso vado andrò in italia dopo ogni dopo parecchi giorni parlerò meglio in italiano anche da e questa volta questa volta per un po' prepararmi per questo video in italiano ho lavorato nel link ho letto secondo le statistiche che abbiamo nel link ho letto 55.000 parole e questo vuole dire che ho letto ho ascoltato la stessa quantità di parole e non solo ho studiato nel link devo dire anche che ho letto non so 10 11 capitoli dei promessi sposi perché 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 ho l'audiolibro del narratore dunque ho letto salveggiato parole e frasi che non che voglio che volevo salvare o conoscere meglio o che proprio non conoscevo ma nel stesso tempo ho trovato sull'internet dei podcast della RAI 2 in particolare un podcast che si chiama alle 8 della sera è una collezione di podcast molto molto interessante su temi diversi la storia, la literatura e altre cose in particolare ho ascoltato un podcast sul Carlo Magno che era molto molto interessante io non conoscevo quasi niente su questo personaggio e su Federico il Grande della Prussia sull'imperatore romano e anche quello che fu il più interessante sulla vita di Vincent van Gogh dunque l'apprendimento delle lingue quindi non è soltanto un modo di acquistare la possibilità di comunicare con gli italiani con la gente ma anche è una porta che apre altre possibilità per esempio la possibilità di imparare su non soltanto la storia di questa nazione, di questo paese ma anche su altre cose perché c'è un punto di vista sulla vita di Van Gogh un punto di vista italiano, un certo italiano che non è lo stesso che un'analisi di Vincent van Gogh da un americano e forse io non avrei ascoltato 20 episodi di un podcast sulla vita di Vincent van Gogh in inglese ma in italiano sì dunque credo sempre che l'apprendimento delle lingue è una cosa non soltanto molto bene per la testa ma anche che è una ricchezza, è una ricchezza sempre di più cose che impariamo che sono agradevoli e molto utile ebbene, basta così se voi avete delle domande per favore, cari ascoltatori cercherò di rispondere arrivederci e hasta luego